bloccare e mantenere su qui si può stare con l'arco no? perché sennò blocco sotto un riscatto ok? qui arriva così qui entri su ok le gambe fanno per l'arco non resta di me qui qua, arrivato qui le gambe fanno così l'arco dai fuori dai fuori dai fuori dai fuori dai fuori piano vai